Certamente il mondo del lavoro attualmente è caratterizzato da un mercato che prevede sempre di più la necessità per come è strutturato, la necessità di flessibilità e quindi questo comporta il ricorso a contratti di lavoro, chiamiamoli atipici, quindi non i tipici contratti a tempo determinato che portano delle problematiche legate prevalentemente all'incertezza sul futuro, prevalentemente alle mancate opportunità di guadagno, paura di perdere il posto di lavoro e quindi per queste cose alla possibilità che vengano accettate delle condizioni di lavoro insicuro. In questi gruppi di popolazione si è visto che si sperimentano dei maggiori rischi di malattie cardiovascolari, di malattie muscoloscheletriche, di diabete ma soprattutto di stress psicologico, quindi tutto ciò che riguarda il mondo dello stress lavoro correlato è chiaramente collegato a questa percezione di incertezza lavorativa che viene indicata col termine di job insecurity che comporta appunto degli aspetti legati da un lato al maggior rischio di farsi male e dall'altra dei risvolti sulla propria vita privata.